La storia di Polizzi è che fino ai giorni in cui sono andato in America nel 58 il 99% dei poliziani erano agricoltori mio padre era mezzadro mezzadro significa coltivare la terra per i baroni per i signori che erano ricchi postavano poca poca terra quindi tutti erano agricoltori allora la vita, la filosofia, la storia il modo di vivere eccetera era tutto un'evoluzione un modo di vivere e di pensare agricolo e quindi i rimedi erano agricoli non c'erano dal dottore perché non c'era nemmeno un dottore c'era qualcuno che aiutava un poco e allora mettevano le foglie di questo e di quello le medicine e tutto era intorno e formato e ispirato dall'agricoltura il giorno incominciava col sole quando smontava il sole per poter dire e finiva quando il sole tramontava il vivere si mangiava tutto quello che era agricolo e allora non solo che era agricolo ma c'era anche la creatività dell'agricoltore di combinare i legumi, la pasta, il vivere e tutti tramandavano la loro tradizione quindi mio padre quando coltivava i campi aveva tutta l'esperienza di secoli quando faceva il vino non c'era un polizzano che facesse il vino e il vino non era buono immagini proprio perché usavano la tradizione dei padri, degli antenati dalla terza, quarta, quinta generazione che erano diciamo di origine greca e poi il museo che abbiamo qui dimostra come c'era già una civiltà greca nel quinto secolo primo di Cristo fuori dal paese ho capito l'agricoltura e poi un'altra cosa che quello che abbiamo oggi gli olivi per esempio gli olivi sono greci e poi sono dedicati all'olivo dedicato a Minerva come simbolo della sapienza sono stati importati dai greci in Sicilia il vino, le vigne gli arveri di fico eccetera il frumento e poi il frumento era soprattutto il simbolo della Dea Cerere che noi abbiamo la parola in inglese il sirio il sirio è il cibo della Dea Cerere e quindi anche quando si coltevò il grano c'erano delle cerimonie si facevano dei riti, dei canti eccetera proprio perché non era solamente il lavoro ma era il lavoro in combinazione con la fede dei tempi i riti che forse dimostrano la fede nell'eterno sono sempre dimostrati da modi agricoli per esempio i calici sulle tombe non so, versare il vino o portare del grano o mangiare in un certo modo tutto è diciamo che la vita dell'agricoltore non è solamente una vita di un uomo che fa un lavoro ma è una vita di un uomo che si integra nel mondo della fede della diciamo della psicologia tutte quelle cose che oggi sappiamo e che loro vivevano in un modo più semplice le persone che, gli agricoltori molte volte recitavano delle priere oppure facevano dei riti dei balli, delle piccole danze eccetera proprio come parte di questo rito